il video di un fan di ultimo che nuota per chilometri solo per un selfie con il cantante ecco cosa è successo e la reazione ultimo il celebre cantautore romano continua a dimostrare di avere un rapporto speciale con i suoi fan il cui affetto e la cui dedizione non conoscono confini la sua recente esibizione al concerto del primo maggio ha nuovamente evidenziato il calore e l'entusiasmo con cui il pubblico accoglie ogni sua performance tuttavia è fuori dal palco che emergono storie sorprendenti di ammiratori pronti a compiere gesti straordinari pur di avvicinarsi al loro idolo un video diventato virale sui social mostra l'epica impresa di una fan che ha deciso di nuotare per chilometri solo per riuscire ad ottenere una foto con il suo beniamino di seguito tutti i dettagli la straordinaria impresa del fan di ultimo ecco il video una di queste situazioni è emersa di recente attraverso un video virale sui social media mentre ultimo si trovava rilassato a bordo di uno yacht ha attirato l'attenzione di un giovane fan determinato a raggiungerlo per un selfie il ragazzo nuotando per chilometri con un braccio sollevato per proteggere il suo telefono dalla l'acqua ha dimostrato una dedizione eccezionale nei confronti del cantante mia mamma mi ha detto che sono pazzo ma non mi importa ha dichiarato il ragazzo mentre si avvicinava sempre di più alla barca suscitando lo stupore e l'ammirazione di ultimo per la sua impresa coraggiosa potete trovare il video cliccando qui una volta raggiunta l'imbarcazione l'emozione ha travolto sia il giovane fan che ultimo che si sono abbracciati calorosamente e hanno immortalato il momento con un selfie il cantante ha poi offerto al suo ammiratore un passaggio arriva tramite un gommone la straordinaria iniziativa del ragazzo ha suscitato una serie di reazioni contrastanti sui social media evidenziando la variegata gamma di emozioni scatenate da un gesto così audace e sorprendente ultimo presto papà la fidanzata è incinta la notizia della paternità di ultimo ha scosso il mondo dello spettacolo e l'esperto di gossip alessandro rosica ha avuto l'esclusiva diffondendola attraverso i suoi canali social in particolare su instagram secondo quanto riportato da rosica jacqueline luna di giacomo la fidanzata del celebre cantautore romano sarebbe incinta dando così vita a una rivelazione che ha fatto il giro del web rosica ha affermato con sicurezza che si tratta di una notizia certissima sottolineando la felicità di questa meravigliosa e limpida coppia nel diventare genitori tuttavia al momento non ci sono conferme ufficiali da parte dei futuri genitori che attualmente si trovano a napoli per assistere ai live di ultimo allo stadio maradona nel corso del suo tour ultimo è impegnato con i suoi spettacoli e jacqueline come di consueto lo segue nei suoi viaggi nonostante l'entusiasmo suscitato dalla notizia sui loro profili social non è emerso alcun accenno a una possibile gravidanza tuttavia alcune settimane fa jacqueline ha condiviso un post significativo dedicato al suo compagno evidenziando il legame profondo che li unisce non potremmo essere più diversi eppure c'è qualcosa di così simile che ci accomuna e unisce non ho ancora capito cosa sia spero non basti una vita questa dedica ora potrebbe assumere un significato ancora più profondo suggerendo la possibilità di un nuovo capitolo nella loro relazione diventare genitori